Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Kyure e oggi siamo tornati in un nuovo video di Uncharted 3, l'inganno di Dreigrenzi Me lo avete chiesto in tanti, noi già vi ho mostrato, quindi io direi di partire subito con la nuova partita Allora si, difficoltamente è normale perchè non sono molto potenti, vi dico subito che è da un bel pezzo che non faccio questo gioco Appunto perchè mi hanno detto, infatti quando sono entrato mi hanno chiesto di aggiornarlo addirittura perchè c'è l'online Solo che non ho deciso di non aggiornarlo, tanto online non penso che ci giocherò, però almeno questo fa vedere che comunque è da un pezzo che non entro Ragazzi, sono molto sinceramente abbastanza emozionato di portarvi finalmente una serie che abbia, una serie che duri abbastanza diciamo E che sia duratura per questo canale Tutti sognano ma non allo stesso modo Coloro che di notte viaggiano nei polverosi recessi della loro mente si svegliano scoprendo che i sogni sono illusione Coloro che sognano di giorno sono uomini pericolosi perchè possono vivere i loro sogni a occhi aperti e realizzarli Bella Londra Io sono uno di questi T.H. Lawrence of Arabia Ok ragazzi, dico subito che i combattimenti qui sono in stile molto assassins crediale, quindi bellissimi ragazzi, è divertentissimo combattere Oh, migliore, bellissimo Classico pub diciamo londinese Dove, cosa siamo? Dove siamo? Mi dico subito che io quando gioco salto tutti i filmati, voglio sparare subito tutto, no? Voglio uccidere tutti subito tutti Invece così oggi in questa serie vi vogliono costruire tutti i dialoghi, tutti i filmati Così almeno ogni volta che c'è un filmato, dove hai uscito a stare Sto zitto C'è un filmato senza inizio così vi faccio godere un po' L'essenza del gioco E dove siamo andati? Oh, che bello Devo dire che per essere nel 2010 c'è una bella grazia Ti stai divertendo amica? No, sei proprio uno spasso Accoglienza dare? Ci perquisiscono, è un papo Sono puliti Ah, devono parlare con il posto Chiedo scusa Non sei mai troppo prudenti Suppongo tu sia Talbot Il signor Sullivan e il signor Drake Esatto Ce l'avete? Ma prima vediamo i soldi Cutter Oh, sti classiche valigetta piena di soldi, i big money Ci sono tutti Ci sono tutti, così Ok Ora vediamolo Cosa fa vedere? Ah, un anello Devo controllare se è autentico Ovviamente Ragazzi, io so già la storia Per essere che non voglio Argento Sedicesimo secolo Stile elisebettiano Quindi Con inciso il motto di Sir Francis Drake Beh Sembra proprio autentico Ma certo che è autentico Se posso chiedere Come lo avreste ottenuto? È importante? Il mio cliente sarà molto soddisfatto Aspetta un attimo Sali, sono finti Le assicuro, signor Drake Oh, 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 hai ragione Finti come una banconota da 3 dollari Ma che razza di storie è questa? Dovrei chiederlo io a voi Tutte cazzate L'affare non si fa E tu? Puoi dire al tuo cliente che è colpa tua Forza Nate, andiamocene da qui Non siete in condizione di poter trattare Ora datemi l'anello Prendete i soldi E uscite di qui da gentiluomo Finchè vi è consentito Fa come dice figliolo Aia, rega Scusa Sei un ladro Attenzione, calugna Bella questa Da che pulpito Partono le botte Partono le botte Partono le botte Quello vai via con i soldi Cazzo vai via con i soldi Tanto appena comincia l'azione Coraggio No Non sai fare di più Oh Questo è mio Ti aiuto Ragazzi Ovviamente è bellissimo Signor Lì la madonna Con me il coraggio Zio Da Stronzo Oh cavolo Che fai? Batti la fiaca Fiat su un saldo Ok Per te è finita Ok I combattimenti sono molto stile Assassin's Creed Devo dire Però Assassin's Creed Sì più veloce Assassin's Creed Forza Via Che era questo? Questione Ho preso Che armadio è? Colpisci No Pessima idea No Me Perichezza Scusi Scusate signori Salve Sì Le abbiamo ristretto Ma dai Ragioniamo Scusate signori Ragioniamo Lanciamo gli amici Vigini Ah Dai ragazzi Prendetelo Prendetelo dai sali fai qualcosa, chi è quello? il cameriere, direttore cameriere ma cosa vuoi? ole guardate che bestia che è cavolo che schifo senti mi sono un secondo, ok? arrivo subito e lui che aspetta anche il neon, si paga la luce ahia ha rotto le piastrelle ok, continuiamo ha, ha, ha ha, ha un po' 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 schulman lo sta dicendo ah che bello tutto bene là dentro? ferito? si nell'orgoglio coraggio andiamo qui usciamo da dietro fermateli ho preso il vecchio oh figato amico mio la futilità e poi saldi se no best andiamo andiamo oh ops merda oh diavolo signori da buone maniere signori signori allora dai il solito yankee tutto chiacchiere ehi può bastare vero amico diciamo che ce l'ho dato non per la lezione chi è questo? no resta al gioco ancora dove eri andato? a casa? cambiato? ragazzi c'è la merkel per noi quella è la merkel sono un po' più madre forse un pochino più giovane però la merkel ciao Victor Kate vedo che sguazzi ancora nel fango con il tuo pupillo davvero poco dignitoso per un uomo della tua età tu avrei dovuto immaginarlo oh stai attenta non vorrei ti sciogliessi il solito spaccone da due soldi così impavido mi chiedo cosa ti spaventi davvero non i proiettili o il sangue o le ossa rotte no tutto questo ti eccita non è vero? ingannare la morte oh no no signor Sullivan non farò male al tuo caro ragazzo voglio soltanto ciò che mi appartiene ridammela su cut oh no sta zitto oddio no che cazzo ma grazie ma grazie ma grazie ma quella secondo me è una storia un po' già vissuta diciamo cioè già vissuta potrebbe essere Cartagena eh colombia adesso a casa siamo in colombia un cannone ah quello è il museo di Francis Drake ho capito ok ok allora se non ricordo male io dovrei essere ah ah ok grazie vent'anni prima ok fantastico beh ci assomiglio come ragazza l'ho fatto veramente bene vent'anni prima allora ragazzi siamo in colombia vent'anni prima e il pirata Francis Drake il museo di Drake questo quindi se non sbaglio ci dovrebbe essere anche l'anello di di Drake penso ok allora io penso già di sapere ok da un mille origini non sono grandi imprese ok io ragazzi eh penso già di select ok eh ok bello questo è quello che ti fanno fare la scuola ma si può correre qua come si corre? no penso che forse di sopra eh forse di sopra si ragazzi ve lo dico che mi sa che adesso devo cercare tipo eh l'anello di Drake quello che avete visto nel nel video precedente nel video precedente nel filmato di prima e lo devo cercare che se non ricordo male dovrebbe essere intorno all'ultimo piano buongiorno scobar no non all'ultimo piano forse al penultimo tu devi essere in una di queste teche eh forse aspetta eccolo qui eccolo qua ah ok ah non è l'anello è il non so ah si ecco l'anello anello beeello cavolo e quell'altro cos'è questa cosa dorata una specie di cosa per farti vargo non so si tu prendi appunti tu prendi appunti che servono sempre tra l'altro con quale alfabeto si bene eh allora capite tu penso che avete capito tutti oh c'è Sally cos'è qua la di Sally 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 si interessate anche tu l'anello mmm mmm immaginavo ci ha dato una mano ah ti agarri ratita callejera suettami ma se la gente non è benvenida qui allora o ci ha dato una mano appena uscita la tecca o ci ha messo nella merda facendo sta cosa non ne ho idea chiedate fuori bendeco ah eccolo lì ok ragazzi dobbiamo seguire Sally non si può correre eh eh questa prima è la tasti a caso percorro devo stargli dietro dove andate? di qua? si ah eccolo la penso eh o si ah 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 a ah ah E' bravo il nostro Sali E' bravo il nostro Sali Beh, comunque era Marcia E' adesso dov'è finito? E' qua, e' qua, tranquillo ragazzi Oh! Si era buggato Io ho paura che da un certo momento all'altro si giri tipo cazzo Dove sta andando? Fatti i cazzi tuoi, Drake Eh, Drake, Nate Nathan, ecco, dopo Ora che sta facendo? Oh, diavolo E' chiusa Sembra stia salendo le scale Serve un altro modo per salire Finalmente Oh, merda Si può salire? Su, su Si, che si può Vai qui, poi vai qui Poi vai qui Poi Ah, poi guarda sul condizionatore Si, qua, sull'aria calda Qualca cazzo ne so Poi vai qua Su ancora Dai Dai Nathan Vai qua Vai qua Vai qua Vai qua Tata 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 La scimmia ci abbiamo in casa Ok Ok Vedete comunque Abbastanza simile a Assassin's Creed Il fatto di genere Devo riuscire a vedere Amico Non permetterti di capire Praticate E che Non assicuramenti Sai com'è Giù Dovevo andare Di qua A chi lo tiene Ah Ecco il biglietto Grazie Adios amico Ok Secondo me si è tipo Fatto fare Merda Non posso passare Si è fatto fare la chiave Per aprire la chiave E la picca di Oh cazzo Oh merda Oh no Tirati su Pazzo Guardate l'altro Che bello Che è l'effetto Del calore Ok Andiamo su Tata Tata Fotocopia 24 24 24 Horas No Si va bene Scusate Scusate La mia Stupidità Vai Vai Ok 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 Taglia per quell'edificio Forse posso vederlo dal ditto Parcour a manette ragazzi Parcour Ah Chi è la tua amica? No È Kate Ragazzi sono un coglione Dai ma ancora? No dai adesso Seguramente Per crearti su una piattaforma Io non gli faccio niente Vero? Ole Scusate ragazzi Questi due Diciamo Fail Non devo perderlo Si sta tranquillo Tranquillissimo Dove sei? Ma sti Una braccetta ragazzi Ci vorrebbe Qua tipo Non conviene Scendere là Una braccetta Ci vorrebbero Tipo Quei paparazzi Devo riuscire a prendere Quel portafoglio Quei paparazzi Po che fanno le foto Ok Lo tieni in quella tasca Ecco la mia occasione Abbiamo un po' di tempo Io direi Troviamo un modo Pacevole Per ammazzarlo Complimenti Complimenti Nate Complimenti Nate I'm gonna look it Proviamo di nuovo Lasciami andare Ah come immaginavo Non provare a scappare Sei lontano da casa ragazzino Non chiamarmi così I tuoi genitori saranno in pensiero Già Non credo proprio Ok Brutto argomento Ottimo scippo là dietro Te la capi bene Non so di chi stai parlando Non chiamare me così Ma la tua tecnica è approssimativa Sei davvero troppo prevedibile Tu sei matto Dici Mi hai seguito per tutta la città Credevi fosse un bersaglio facile Ma hai scelto la persona sbagliata amico Cosa? Il mio portafogli Sveglio Bene Allora chiameremo la polizia Fai pure Vediamo Saranno curiosi di sapere perché un turista di mezza età insegue i ragazzini Sei scaltro eh furfantello So come badare a me stesso E comunque Credo che anche tu preferisca stare alla larga dagli sbirri Questo è vero Ragazzo Il portafogli Daglielo Prima che si incazzi Ci ho approvato Mi sembra giusto Sono riguardo se ce l'ho Davvero troppo prevedibile Ah Ahiaiaiai Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo che io l'aveva fottuto Lo sapevo ragazzi Immaginavo Mi ci giocavo quello che volete Ok Bene ragazzi Siamo arrivati anche al termine Del primo episodio di Uncharted 3 La prossima episodio Li parteremo da qui Dal lavoro Da topo Da appartamenti Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi Passate la pagina di Facebook E Instagram Che come i video La scelta in descrizione Ricordo appunto di lasciare un bel mi piace Per supportare questa serie Per farvi capire che vi piace A me per adesso sta piacendo Veramente tantissimo Un saluto Un abbraccio Da Chiudo è tutto Ci si becca Al prossimo video Never back down Chur Mangeresti la merda Pela E' buona Comunque si